A seguito dell'incontro avvenuto tra i sindacati, l'amministratore delegato di Betafence Italia, volto a conoscere ufficialmente i dati di fatturato e di bilancio conseguiti fino al 31 luglio 2020, è stato confermato come era ampiamente nell'area che il 2020, l'anno del Covid, che dovrebbe essere la causa della chiusura del sito di Tortoreto, si è rivelato essere migliore del 2019. Al 31 luglio infatti il fatturato si è attestato intorno ai 20 milioni e 400 mila euro, praticamente in linea con i 21 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Il dato che è cresciuto di più del 20% è l'indicatore che misura la ricchezza generata dall'azienda. Era quello che ci interessava per portare al tavolo del Ministero la conferma che questa è un'azienda sana e produttiva. Abbiamo chiesto anche chi parteciperà al tavolo del primo settembre al Ministero dello Sviluppo Economico, anche se virtuale. Ci hanno confermato che verranno quei tre signori che hanno detto il 29 luglio che noi non siamo più buoni come azienda e la riunione è finita subito perché noi interessavano quei dati. E' chiaro che c'è ancora la conferma della chiusura fino a quando andremo al Ministero che sarà definitiva che ce lo verranno a dire. Tra l'altro quello che è emerso e che noi non sapevamo perché poi abbiamo rotto il tavolo precedentemente è che questi signori volevano dirci, poi bisogna capire se l'hanno pensata dopo o se già prima era così, non intendono chiudere tutto lo stabilimento di Tortoreto. Ma è uno specchietto per le allodoro perché vogliono chiudere il 90% dello stabilimento e lasciare qualcosa in logistica e qualcosa in amministrazione, quindi parliamo di una quindicina di unità. Facendo così possono accedere all'ammortizzatore sociale Covid del decreto di agosto che anche noi abbiamo ribadito che noi non li firmeremo questi ammortizzatori anche se non c'è la necessità della firma del sindacato. Ma comunque riteniamo che sia veramente un'acceleratezza e un atto indoveroso verso il governo italiano e verso soprattutto i lavoratori della Beta Penzi di Tortoreto che comunque gli tocca pagare anche gli ammortizzatori sociali dello Stato italiano a questi signori che stanno chiudendo.